L'inchiesta della Procura di Campobasso relativa al cosiddetto sistema Iorio approda in tribunale. Fissata per domani, martedì 21 luglio, l'udienza preliminare per 22 indagati, tra cui spiccano l'ex governatore Michele Iorio, l'ex presidente di Moliseacqua e Giorgio Marone, Gianfranco Vitaliano e Giuseppe Gianrusso, ex numero uno della protezione civile. Assunzioni pilotate alla protezione civile, informazione mirata a sostenere Michele Iorio e Ricatti, questi tre filoni d'inchiesta oggi racchiusi in un unico fascicolo sottoscritto dal procuratore Dalterio. Un'indagine iniziata alla fine del 2012 nel mirino degli inquirenti anche i rapporti dell'ex governatore Iorio con alcuni organi di informazione locali che avrebbero beneficiato, grazie al suo intervento, di contributi pubblicitari e altre forme di finanziamento elargiti dalla regione Molise. Quanto al capitolo Assunzioni a termine in protezione civile, gli indagati principali sono Michele Iorio e l'ex direttore da lui nominato Giuseppe Gianrusso. Ma ci sono anche funzionari regionali occupati presso l'agenzia e facenti parte alcuni della commissione che ha segnato i 218 posti di lavoro messi a bando prima delle elezioni regionali. Secondo i magistrati, i vincitori predesignati sono stati aiutati da punteggi alti, ipotizzando uno scambio di favore con voti a sostegno di Iorio nelle elezioni regionali 2013. Toccherà al giudice, di fronte al quale si terrà l'udienza, a stabilire se gli indagati dovranno essere sottoposti a regolare il processo o se la loro posizione potrà essere archiviata. Intanto la regione Molise, guidata da Frattura, chiamata in causa come parte offesa, ha deliberato l'intenzione di costituirsi parte civile in un eventuale processo. Una vicenda che ha sbattuto il Molise in prima pagina e che è stata approfondita anche dalla nota trasmissione report condotta da Milena Gabbanelli, che si è occupata del cosiddetto sistema Michele e della gestione delle aziende a partecipazione regionale.